domenica contro la Roma per le occasioni che non sono state concretizzate mentre invece il Barcellona ha sfruttato tutto quello che c'era da sfruttare anche forse al di là dei suoi meriti specifici, non diciamo dei meriti generali il Barcellona ha fatto il suo gioco, noi abbiamo fatto il nostro abbiamo dato tanti impegni in primo tempo, abbiamo dato quasi tutto non siamo riusciti a recuperare e abbiamo sbagliato i corti gol qui è la prima occasione che è capitata a Pacione che non è riuscito a deviare Michel Platini ha giocato bene mi sembra questa partita sei soddisfatto del tuo rendimento? un giorno ho giocato malissimo mi ricordo a Basilea contro il Porto e abbiamo vinto quindi l'importante è poi alla fine il risultato e non tanto il rendimento del single proprio sì, e questo è il gol, mi sembra che qua Stefano ha avuto la tentazione di andare a recuperare su Carrasco che è in mezzo perché ha pensato che Arcevalda va in mezzo e lui ha giocato molto bene e purtroppo l'ha messo proprio vicino al palo e non ha potuto niente invece lui non aveva anticipato su Carrasco, lavorato con il porto della palla e mi portava si chiacceva dal palo a Carrasco dunque non si può mai dire niente questo è il gol, un bel gol per la verità, soprattutto bravo anche Lautro che ancora una volta ha giocato una bella vertiglia su Michelin ha fatto cose strafitose il primo tempo e dopo è calato come tutta la squadra come noi il secondo tempo qui ancora siamo nel secondo tempo dove tutto sommato nonostante il calo ecco questa è una bella occasione che con un po' più di fortuna poteva anche cambiare no ma per una volta che la becco no il secondo tempo non abbiamo più avuto occasione di segnare quasi più niente qua nel primo tempo abbiamo avuto la forza un po' di andare in porta il secondo tempo non abbiamo più, abbiamo giocato con desordio non abbiamo più fatto niente perché abbiamo rischiato tutti a provare qualcosa qua l'ha toccato ma intanto Giulio Alberto aveva perso il pallone qui ancora non hai avuto grandissime occasioni di giocalci di punizione sì, hanno avuto un primo tempo che è passato vicino a paro sì, 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 si è visto allora